Buona giornata, ben trovati, eccoci all'appuntamento dedicato come di consuetudine al mondo dello sport venetoglobe.com, la nostra web tv, la nostra web dove potete trovare naturalmente in modalità on demand tutti i nostri servizi, i nostri reportage, le nostre interviste, mentre ci avvaliamo del canale 95 per quanto riguarda Veneto e Friuli Venezia Giulia di Caffè TV 24, l'emittente che trasmette comunque e si diceva un po' in tutto il nord Italia, Emilia Romagna e Marche comprese. Bene, buona giornata, andiamo a vedere subito quali sono le principali notizie di oggi. Cominciamo dal calcio quest'oggi con le ultime gare ieri sera per quanto riguarda la giornata conclusiva, il weekend con Genoa-Milan, si è vista la vittoria buona, tra l'altro un buon secondo tempo del Milan 2-0 che adesso attende il nuovo centravanti proveniente proprio dal Genoa e l'addio, diciamo così, di Higain del Pipita che va da Sarri al Chelsea. Juventus-Chievo invece l'altra partita, la seconda della serata, ha visto la vittoria netta per 3-0 del Juventus, non c'è nemmeno poi più nulla da dire su questa squadra di Marziani. In serie B, ieri mancava una partita, si è giocata la gara alla Spezia tra Spezia e Venezia, la formazione di Walter Zenga ha strappato un punticino ma ci sono gli elogi di Zenga al tecnico dello Spezia e alla Spezia stessa, gran bella squadra, ha detto giocato molto molto bene. Passiamo alla serie C dove nel girone B oggi si ritorna in campo con Rimini-Vicenza, è un Rimini che deve fare a meno di Acori perché è stato esonerato l'altro giorno dopo la sconfitta al Nereo Rocco di Trieste con la Triestina, poi c'è Virtus-Verona-Pordenone, è un Pordenone in testa alla classifica, lanciatissimo con numerosi punti di vantaggio sulla seconda e quindi galvanizzato più che mai. In serata si giocherà Ravenna-Triestina. La serie D, ieri parlavamo di questa ventesima giornata con il risultato che ha fatto più scalpore, è stata la sconfitta dell'Adriese contro il San Giorgen, vittoria per 1-0 ma sconfitta che blocca l'Adriese al comando di questa classifica a 39 punti, l'Arzichiampo e il Campodarsego a 36, poi il Montebelluna che ha guadagnato un punto e quando dico guadagnato dico bene perché il Feltre è una gran bella squadra quest'anno, quindi 1-1 il risultato, Montebelluna a 28 punti in mezzo alla classifica. Parliamo pure di eccellenza, lo abbiamo fatto anche ieri citando la bella partita tra Nervesa e Lia Piave che trovate in versione on demand sulla nostra web tv www.venetoglobe.com, trovate l'intera partita con il commento del sottoscritto, una partita in cui si vedono 8 gol, quindi una partita viva interessante che ha dato il là alla formazione di Tossani, il Lia Piave per balzare in metta la classifica, in effetti ha approfittato di questo 5-3 in campo esterno Nervesa perché la Luparense non è andata oltre un pareggio 1-1 contro il Calvinoale di Vianello e quindi stop per il Luparense che passa in seconda posizione, Lia Piave davanti ed è una striscia importantissima per la formazione di Tossani. C'è un'altra novità in questo campionato, cioè quello dell'esonero di Bruno Gava, Eclisse San Giorgio Sedico Eclisse era terminata 1-0 per l'Eclisse e eccolo qui, questa sconfitta ha fatto esonerare il tecnico trevigiano, tra l'altro Bruno Gava che da ieri sera quindi non siede più sulla panchina del San Giorgio Sedico in attesa di un nuovo tecnico. Lia Piave 44, Luparense 43, Mestre 39, questa è la classifica delle prime tre e domenica ci sarà una gran partita che seguiremo con le nostre telecamere, cioè quella di Pieve di Soligo dove arriva la Luparense, quindi Eclisse contro Luparense partitissima del girone. Andiamo in promozione, ieri non abbiamo dato alcuni risultati, Caorle Favaro 2-2, Conegliano Lois Fresiano 2-2, Vedelago 90 3-1, Conuda Crocetta Portogruaro 1-6, Fossa Alta di Piave Prodeco Montello 1-2, le prime due della classe non mollano, Giulia Sagittaria Vazzola 1-1, a Fontanelle Villorbo batte Fontanelle 5-1, Opitergina ZTLL sinistra Piave 2-2. Il comando è sempre il Portogruaro che non ha perso nessuna partita, sono 46 i punti totali, Prodeco Montello a 44, Opitergina a 32. Lasciamo il mondo del calcio e passiamo a quello del basket. TV Basket Treviso al Palaverde contro la Baccheri Piacenza ha vinto domenica 96 a 71, sabato anzi diciamo, le vittorie collezionate contro Ferrara e Piacenza hanno riportato in linea di galleggiamento la formazione di Max Menetti dopo la leggera crisi e ora si sta preparando la sfida contro la fortitudo Bologna. Dire che vale un campionato forse esagerato, dire che vale le posizioni migliori invece possiamo dirlo, perché vi ricordo che la prima sale di diritto in A1, per gli altri ci sono i playoff e quindi bisognerà vedere come ci si arriva a questi playoff. Intanto purtroppo in casa TVB arriva una brutta botta, la botta per Tomassini, il suo ginocchio vi ricordo era arrivato, era stato acquistato dal DS Gracis con la convalescenza da fare, aveva detto e ce lo ricordiamo anche nella nostra intervista che sarebbe ritornato a gennaio. Purtroppo prima di gennaio ci sono state due leggeri distorsioni al ginocchio che però hanno fatto capire che il legamento ricostruito è troppo leggero, quindi Tomassini sfortunatissimo dovrà ritornare sotto i ferri, lo farà già da domani mi pare e Gracis, quindi il direttore sportivo della TVB è alla ricerca di un play italiano e di un colored, vedremo che cosa arriverà a Treviso. Allora la prima intervista di oggi, il primo servizio di oggi arriva da Ponzano, la serie A2 femminile sempre di basket, contro la Sanga Milano purtroppo c'è stata una sconfitta 63 a 59, Campagnolo il nuovo tecnico sperava di festeggiare con una vittoria la sua prima in casa, non è stato così al Palacigogna, ma sentiamolo. Dicevo al coach avversario che l'hanno voluta, certo che poi voi nel terzo set la volevate di più, poi cos'è successo? Abbiamo fatto un terzo quarto dove avevo chiesto alle ragazze più attenzione difensiva, abbiamo recuperato almeno 13, meno 14, siamo state brave, poi due tre particolari, due tre canestri assoluto sbagliati ci hanno giocato la partita. I complimenti arrivano da Milano perché dice beh se questo Campagnolo ha fatto così in queste due settimane può ben sperare. Ringrazio il coach avversario, lui ha molta più esperienza di me quindi lo ringrazio infinitamente. Cosa è mancato? L'ho vista un po' nervoso in certe occasioni quando si sono sbagliati quei tiri da sotto. Abbiamo sbagliato di canestre che alla fine tiri liberi, canestri da sotto ci sono costati la partita. Però adesso c'è qualche schema, c'è qualche idea di gioco anche rivoluzionata rispetto al primo? Abbiamo rivoluzionato un attimo il contropiede ritardato, abbiamo messo entro un attacco nuovo. Ovviamente in due settimane come detto le ragazze non è che possiamo andare da 0 a 100. Io ho fatto complimenti spogliatoio perché ho già visto la squadra che sta pian piano migliorando. Ci vuole un po' di tempo ma sono molto fiducioso. Una bella reazione perché questo terzo quarto è stato veramente... Partiamo dal terzo quarto, partiamo dal terzo quarto. Buon lavoro. Grazie mille. Grazie. Era un Filippo Campagnolo nonostante tutto, nonostante la buona prestazione fatta perché ad un certo punto poteva anche vincere Ponzano, era un po' deluso perché insomma è un'altra sconfitta importante in questo campionato. Oltre a Ponzano e oltre alla TVB noi seguiamo anche la Rucker Sanve a Milano contro l'Urania purtroppo ha perduto, adesso si ritorna in casa al Palace System di Saccondi San Vendemiano sabato sera, altra compagine di alta classifica contro Orzi Nuovi, ecco qui il logo appunto della compagine trevigiana. E adesso Limoco, Limoco che al Palaverde per il match di ritorno di Coppa Italia contro Monza ha vinto per tre a uno, dopo la vittoria del primo set Santarelli ha dato spazio a tutte le altre ragazze per far prendere minutaggio e per far giocare le cosiddette seconde linee, anche secondo linee non sono. Buona tra l'altro la prestazione di tutta la squadra, compresa la seconda palleggiatrice Marta Becchis che ha i nostri microfoni. E allora, scherzando abbiamo detto commossa invece sotto antibiotici? Sotto antibiotici, nessuna commozione, però sicuramente tanta tanta gioia perché insomma abbiamo ottenuto un risultato molto importante e l'abbiamo voluto, era un obiettivo di quest'anno quindi insomma siamo veramente contenti di averlo ottenuto in una bella prestazione in casa. In telecronica dicevamo che sei entrata bene nel match perché buone palle e hanno cominciato a capire anche quello che gli metti sotto rete. Sì, no, sono contenta. Chiaramente sono molto contenta di aver giocato, insomma, credo che ci sia bisogno di tutti quest'anno e ce ne stiamo rendendo conto. È stato un inizio un pochino travagliato dove insomma purtroppo tanta sfortuna per chiamarla così e non dire altro ha veramente tolto delle pedine importanti che quindi mi avrebbero permesso anche magari di giocare un pochino di più e questo non mi ha fatto prendere il ritmo però direi che siamo ancora in tempo per riprendere questo ritmo e stasera abbiamo iniziato. È stata una bella prestazione, sono contenta, vado a casa soddisfatta. Tre punti. E noi con voi. Abbiamo visto questo cartello, ci vediamo, bella questa iniziativa di ci vediamo a Verona, la Lega l'ha fatto, tocca a voi chiamarvi. Il pubblico ci verrà? Ah, il pubblico ci verrà, sì. Insomma, l'anno scorso ci siamo arrivati ad un pelino e quindi quest'anno vogliamo tornare a Verona con le unghie veramente belle affilate perché è un nostro obiettivo, lo sappiamo, lo vogliamo ottenere, quindi siamo ben concentrate. Vi fermate poco perché è martedì via in Polonia. Martedì via in Polonia, partiamo domani mattina, adesso è un periodo veramente intenso, tosto e insomma l'abbiamo ricercato anche l'anno scorso con tutti gli obiettivi, l'abbiamo voluto e adesso ben venga a questo Tour de Force. Buca al lupo. Grazie, grazie Crepi. Ciao. E brava Marta Becchis, seconda palleggiatrice, da palleggiatrice a palleggiatrice perché parlava di Polonia, la Volosch, la prima palleggiatrice appunto della formazione trevigiana, va nella sua terra in Polonia dove non ha mai giocato contro il Lotz che affronta questa sera in serata la partita di Champions per la formazione del Limoco che è sottoposta veramente a un Tour de Force in questa settimana. Lasciamo Limoco attendendo risultati positivi, invece Benetton, rugby, purtroppo la scorsa settimana il finale di settimana non è stato felice del tutto, vittoria molto bella tra l'altro per quanto riguarda la formazione trevigiana, però poi amarezza perché è arrivata il settantasettesimo a tre minuti dalla fine della partita tra Bordeaux e Connacht, la brutta tegola che il risultato non era favorevole ai trevigiani e quindi niente fase finale per quanto riguarda la challenge. Adesso ci si getta nella Pro 14 ed è anche qui un bel gettarsi perché le posizioni sono alte e quindi un buon lavoro arriva tra l'altro nella settimana della nazionale italiana, quindi si dovrà fare i conti anche con questo, ma siamo pronti a tutto, dicono da casa Benetton. È tutto anche per oggi, è tutto anche per noi, ci fermiamo qui, vi diamo l'appuntamento domani, solita ora, solito canale, canale 95 per quanto riguarda Caffè TV 24, per Veneto e Friuli Venezia Giulia, mentre sulla nostra web tv www.venetoglobe.com. a risentirci.